Mister Franco Learda al termine di Ferral Pistolo Pro Vercelli 0-3, mister una prestazione importante da parte della sua squadra su un campo come abbiamo detto difficile, ha saputo imporsi ed essere anche molto concreta quest'oggi. Come commenta? Commento che è stata una bella partita, abbiamo fatto bene, anche molto bene il primo tempo, dove meritavamo già di passare in vantaggio perché abbiamo avuto 3-4 situazioni importanti, poi il secondo tempo dopo i primi dieci minuti che magari abbiamo subito un po' anche per demerito nostro la ripresa della Ferral Pistolo Pro Vercelli, poi però non ho sbloccato il risultato, siamo venuti molto bene fuori e siamo stati pratici e abbiamo vinto una partita meritatamente contro una squadra forte. Una pro che oltre ad essere concreta quest'oggi ha ancora sottolineato la sua importante fase difensiva, è stata molto attenta anche in fase difensiva. Sì, lo ripeto sempre, è importante che tutti lavorino per cercare di fare bene le due fasi, anche quella di non possesso. Adesso qualche giorno di lavoro prima della sfida contro Renate? Adesso dobbiamo recuperare perché abbiamo un'altra squadra di vertice e sarà di nuovo una partita impegnativa come lo sono tutte. Grazie.